Buongiorno FTI Online, avvio cedente questa mattina per la borsa Fuzzimib in questo momento in calo dello 0,4% circa, siamo a 18.385 punti, con l'indice che però ha disegnato nel corso della prima parte della seduta odierna, un piccolo doppio minimo con base sui 18.250 punti, se i prezzi riusciranno a superare area 18.400 sarà completata la figura rialzista con un target quindi intorno a 18.550, viceversa discese nuovamente a di sotto area 18.240 e 50 farebbero temere cali nell'ordine dei 200 punti circa. Tra i titoli più interessanti questa mattina sono alcuni bancari, iniziamo con Banca Popolare dell'Emilia Romagna che sale al 2,5%, siamo a 4,80€, il quadro grafico è abbastanza interessante dal momento che le quotazioni sono comprese da circa un mese all'interno di questa fase laterale che ha una base facilmente individuabile intorno ai 4,5€ e un limite superiore posizionato intorno ai 5,30€. Il superamento del lato alto di questa fascia permetterebbe la ripresa del trend rialzista che abbiamo visto nei minimi di febbraio con un obiettivo proporzionale all'ampiezza della fase laterale stessa, quindi posizionato intorno ai 6,10€. Nel corso del rimbalzo il titolo avrà a che fare con i ritracciamenti di fibonacci calcolati per il ribasso dei massimi di luglio, vediamo che uno dei più significativi, quello del 50% praticamente coincide con l'obiettivo dato dal completamento della figura di forma rettangolare che abbiamo disegnato. Quindi in caso di superamento di 5,30€ il test di area 6,10€, 6,15€ sarà molto importante perché solo in caso di superamento anche di quei livelli sarà possibile ipotizzare un proseguimento duratura della fase di rimbalzo. Al contrario solo discesa di sotto di 4,50€ farebbe ottemere un'evoluzione negativa non solo sulla base del gap del 15 febbraio posizionata a 4,18€, ma più probabilmente ritorna proprio sui minimi di febbraio a 3,67€. In sintesi quindi la strategia è positiva con ulteriori segnali d'acquisto di sopra di 5,30€, uno stop loss da posizionare subito di sotto di 4,50€. Positiva questa mattina anche Carige, siamo a 0,59€ circa, rialzo del 0,50%, nel corso delle ultime sedute abbiamo visto la formazione di una figura di forma triangolare, anche in questo caso potremmo essere quindi in presenza di una pausa del rimbalzo che si è visto dai minimi di febbraio, al di sopra del lato alto di questo triangolo, la resistenza è in area 0,60€, verrebbe inviato un segnale interessante di forza che farebbe pensare in una possibilità di correzione di tutto il ribasso che c'è stato dai massimi dello scorso ottobre, un primo obiettivo si colloca a 0,75€ circa e il successivo poco al di sopra di area 0,90€. Solo se le quotazioni dovessero scendere nuovamente al di sotto della base di questo triangolo, quindi con la violazione di 0,54€, verrebbe messa in dubbio la probabile evoluzione positiva. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento settimana prossima con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.